1, 2, 3 1, 2, 3 Venghilo signori, venghilo non c'è trucco, non c'è inganno oggi vi porto in camera oscura il luogo dei segreti e vi farò vedere come con il kit roba apposta invertiremo la carta fotografica fotosensibile il kit roba apposta è un kit in versione per tutte le carte e tutte le pellicole bianco e nero per cominciare bisogna scattare una fotografia e serve una fotocamera il formato della stessa determinerà la misura finale della fotografia useremo la tecnica della carta fotografica diretta o direct paper in questo caso possiamo sfruttarla anche per creare una live performance e faremo tutti i passaggi dalla parte in luce di sicurezza la carta fotografica è fotosensibile e ortocromatica per arrivare poi alla specialità del processo cioè la parte finale dove appare l'immagine in piena luce eseguito lo scatto in questo caso in grande formato 8x10 pollici si entra in camera oscura per sviluppare l'immagine negativa si passa per il primo sviluppo l'immagine deve apparire molto densa poi si lava qualche secondo e si passa nella sbianca la quale cancella quasi completamente l'immagine negativa appena formatasi si lava poi la fotografia a fondo e si consiglia di usare il componente x incluso nel kit roba apposta per ripulire in profondità la fotografia si può accendere la luce il foglio di carta è bianco adesso è il momento di riespore la fotografia alla luce basta una semplice lampadina per qualche minuto la maschera positiva inizia ad intravedersi si ritorna quindi nello sviluppo la fotografia inizia a diventare il positivo finale come passaggio finale va bene un fissaggio universale e poi si lava abbiamo ottenuto una fotografia a pezzo unico direttamente su gelatina d'argento dalle caratteristiche di ricchezza di dettaglio e tridimensionalità straordinarie se questo processo vi è piaciuto o vi ha incuriosito io vi invito a frequentare le nostre iniziative e a venire a vederlo dal vivo vi ricordiamo che il nostro portrait service è disponibile per photo booth matrimoni, feste, festival e naturalmente nei nostri studi fotografici e che l'argento sia con voi